Una prima parte sostanzialmente su un'introduzione un po' alla struttura dei pianeti del Sistema Solare e una piccola introduzione alle missioni spaziali che sono attualmente in atto per la ricerca di tracce biologiche nel Sistema Solare. La seconda parte dell'intervento sarà del dottor Roccero che vi parlerà un po' più in dettaglio della parte diciamo così prettamente biologica. Partiamo da una piccola nota storica, la concezione moderna dell'origine della struttura del Sistema Solare si deve a Pierre-Simon de Laplace, un grandissimo fisico e matematico che nel 1796 ebbe la prima intuizione veramente moderna su come è nato sostanzialmente il Sistema Solare. Vi ho riportato qui la frase originale, lui disse che sostanzialmente il Sistema Solare doveva essere nato dalla contrazione gravitazionale di un qualcosa che lui chiamava atmosfera solare che si doveva estendere ben al di là del Sistema Solare allora conosciuto che arrivava sostanzialmente fino a Saturno. Questa teoria della contrazione di un qualcosa di più grande è quella che noi chiamiamo la teoria nebulare e oggigiorno sostanzialmente crediamo più o meno nella stessa cosa, crediamo che questa sia la via che ha seguito il Sistema Solare nella sua formazione ovviamente rispetto alla fine del 1700 abbiamo messo un po' di fisica moderna dentro e soprattutto Safronov nel 1950 diede un'interpretazione che è sostanzialmente quella che consideriamo valida ancora oggi. Tutto parte da una cosiddetta nube molecolare gigante, una nube intestellare che non so se riuscite a vedere, immagino di no, in alto a sinistra è un oggetto che sta ovviamente nello spazio intestellare e che è costituito sostanzialmente da gas e polvere. In realtà la maggior parte della massa di questo oggetto è in gas, si pensa più o meno al 70% della massa in idrogeno, il resto è sostanzialmente elio con delle tracce di elementi più pesanti e ovviamente di elementi che sono già condensati che sono di tipo polveroso. Questa nube per un teorema famoso agli studenti di astronomia, il teorema del viriale è in teoria abbastanza stabile, quando subisce una perturbazione esterna che potrebbe essere un'onda d'urto di una supernova, potrebbe essere un incontro gravitazionale con un'altra stella o un incontro gravitazionale con un'altra nube molecolare gigante, inizia la contrazione e questa contrazione porta poi alla condensazione di uno o più nuclei di materia all'interno di questa nube e questi nuclei poi si trasformano in quello che vedete in basso, in un cosiddetto disco protoplanetario che poi darà origine a un sistema solare vero e proprio. Ora questa teoria non è più così tanto teorica, perché ormai negli ultimi anni abbiamo delle evidenze osservative che queste entità che sono involucrate in questo ciclo che voi vedete dipinto nella diapositiva esistono veramente. Ad esempio le nube molecolari le abbiamo viste nell'universo grazie al telescopio spaziale Hubble, abbiamo visto delle bellissime immagini di nube molecolari più o meno giganti, quindi giganti è un termine che va e viene, dipende ovviamente dalla massa totale della nube, in cui si ha la formazione stellare. E l'immagine in alto a destra, i cosiddetti Pillars of Creation, è un'immagine molto famosa del telescopio spaziale Hubble in cui c'è, vedete, queste nubi strane della forma strana di gas in cui avviene la formazione stellare vera e propria. Inoltre negli ultimi anni abbiamo avuto anche delle evidenze osservative che effettivamente i dischi protoplanetari esistono. Queste sono delle immagini vere, non sono delle simulazioni e derivano sostanzialmente come risultato dalle osservazioni del grande array di radiotelescopi che è ALMA. Sostanzialmente è l'insieme più potente di radiotelescopi che abbiamo oggi giorno sulla superficie terrestre, ha un grande potere risolutivo e ci consente di vedere, vedete, ognuno di questi sistemi, di queste immagini, vi dà un'istantanea di un sistema solare in formazione. Ovviamente sono tutti sistemi diversi l'uno dall'altro, ma effettivamente esistono. Quindi questa teoria nebulare quadra sostanzialmente, abbiamo delle evidenze osservative di tutto ciò. Quindi il Sole e il sistema solare si è formato in questa maniera e qua abbiamo, vi ho messo una sorta di rappresentazione generale degli oggetti del sistema solare. In questa diapositiva le distanze non sono mantenute in maniera reale, sono delle distanze puramente ideali. Quello che è mantenuto in maniera reale sono le dimensioni relative dei vari oggetti e vedete che l'oggetto più grande del sistema solare, che contiene più del 99,9% della massa del sistema solare è il Sole. Vicino al Sole ci stanno quattro pianetini rocciosi, tra cui la Terra, e più lontano quattro pianeti che hanno una densità più bassa di quella terrestre, diciamo che sono fatti essenzialmente di gas e ghiaccio. Soprattutto Giove e Saturno hanno una composizione che è molto simile a quella del Sole. Quindi abbiamo quattro pianeti interni rocciosi, quattro pianeti esterni gassosi. Gli astronomi nel 2006 hanno, si sono inventati un po', hanno tirato fuori dal cilindro anche la classe dei pianeti nani, che sono degli oggetti piuttosto grandi, ma non abbastanza grandi per essere dei pianeti veri e propri. Per ora se ne sono scoperti cinque. Abbiamo Cerere, che è situato tra Marta e Giove, e gli altri, che sono Plutone, Aumea, Makemake e Eris, sono invece oggetti che vengono chiamati transnettuniali. Quindi abbiamo il Sole, abbiamo i pianeti classici, abbiamo centinaia di lune dei pianeti e abbiamo milioni, e qua forse lo dovrei aggiornare perché secondo me sono più miliardi, di piccoli corpi nel Sistema Solare. Cosa sono i piccoli corpi? Sono tipicamente gli asteroidi, le comete e una serie di oggetti che stanno al di là dell'orbita di Nettuno. Non solo il Sole, il Sistema Solare è costituito anche dal cosiddetto mezzo interplanetario, quindi dai fotoni, dal plasma che vengono emessi dal Sole, dalle particelle di polvere che permeano lo spazio interplanetario e anche dagli stessi campi magnetici dei pianeti e del Sole stesso. Se facciamo un attimo un discorso di distanze, qui abbiamo perso la realtà della dimensione relativa dei vari oggetti, ma ci focalizziamo sulla distanza, vedete che i quattro pianeti rocciosi sono sostanzialmente impacchettati molto vicini al Sole e la distanza massima, che è quella di Marte, è praticamente di 1,5 unità astronomiche, dove l'unità astronomica è la distanza media, quindi 150 milioni di chilometri circa, tra il Sole e la Terra. Dopo Marte, quindi dopo i pianeti rocciosi, c'è una cintura che viene chiamata fascia di asteroidi o fascia principale di asteroidi, poi c'è il regno dei pianeti giganti che arriva sostanzialmente fino a Nettuno, quindi fino alle 30 unità astronomiche e dopodiché c'è una serie di milioni di oggetti, di cui purtroppo allo stato attuale della nostra conoscenza ne conosciamo davvero molto pochi, ma quello che noi crediamo è che in realtà poi il sistema solare finisca con una sorta di nube sferica di distribuzione di materiale che dovrebbero essere nubi cometari, questa è un'intuizione del 1950 di Jan Hort, da qui il nome della cosiddetta nube di Hort. La nube di Hort sarebbe questa sfera che, se volete, ingloba il sistema solare o vista in un'altra maniera costituisce l'estremo limite gravitazionale del sistema solare, che è estesa fino probabilmente a 100.000 unità astronomiche, quindi a una distanza estremamente grande. Ora, perché c'è questa chiara dicotomia tra pianeti rocciosi vicino al Sole e pianeti di tipo gassoso che hanno tra lato una grande massa, Giove ad esempio ha 333 volte la massa della Terra, quindi sono molto grandi, sono molto massivi, ma sono estremamente poco densi, in un certo senso sono molto leggeri. Se in un ipotetico, in un ipotetica astrazione voi prendeste Giove e lo metteste in un lago, probabilmente Giove galleggerebbe, ecco, perché ha una densità estremamente bassa preso nel suo totale. Perché c'è questa dicotomia tra pianeti rocciosi vicini e pianeti giganti gassosi lontani dal Sole? Perché il punto chiave dell'evoluzione del sistema solare è la temperatura che era presente nel disco protoplanetario. Quello che noi pensiamo è che i pianeti interni, tra cui ad esempio la Terra, si siano formati in una zona del sistema solare che era molto calda e la Terra durante la sua formazione aveva a disposizione del materiale solido per formarsi che era sostanzialmente di tipo roccioso, di tipo silicatico. Non aveva a disposizione come materiale solido gli elementi leggeri, ad esempio un composto di elementi leggeri molto famoso, è l'acqua. Quindi l'acqua era allo stato gassoso. Se ci allontaniamo dalla stella solo in formazione, la temperatura diminuisce e andiamo oltre la cosiddetta linea di condensazione dei ghiacci. Oltre la linea di condensazione dei ghiacci, invece un oggetto come Giove, che si sta formando, ha a disposizione come materiale solido sia i silicati, quindi sia il materiale di tipo terrestre, che il ghiaccio, ad esempio il ghiaccio d'acqua. Quindi ha a disposizione più materiale solido. Visto che noi crediamo che il meccanismo iniziale di formazione dei pianeti siano interazioni tra solidi, va da sé che Giove ha avuto a disposizione tanto materiale e poi tanto materiale di tipo di elementi leggeri, quindi in acqua, quindi si sia formato molto rapidamente in circa 10 milioni di anni, mentre la Terra dovrebbe averci messo più o meno, le simulazioni dicano, un centinaio di milioni di anni per formarsi, si sia formato in maniera molto rapida, inglobando una grande quantità di elementi leggeri. Una derivazione molto interessante che vorrei lanciare un po' come un sasso in uno stagno, è che se la Terra si è formata come un corpo piuttosto caldo e piuttosto secco, non ha avuto modo di ritenere in maniera efficiente tutta l'acqua che invece noi vediamo oggigiorno presente sulla Terra. Qual è l'implicazione? L'implicazione è che l'acqua terrestre, questa è la teoria cosiddetta esogena che piace molto a noi astronomi, l'acqua della Terra deve venire da qualcos'altro, non è un'acqua di tipo terrestre, è un'acqua che viene da oggetti che hanno bombardato con un bombardamento meteorico nel corso dei vari miliardi di anni e la Terra, ad oggetti che si sono formati al delà della linea di condensazione dei ghiacci e quindi sono ricchi effettivamente in ghiaccio e in ghiaccio d'acqua. Ora, abbiamo fatto questa piccola introduzione del sistema solare, vorrei introdurre un pochettino il discorso astrobiologico da un punto di vista astronomico e qui forse mi prenderò gli strali dei miei colleghi biologi. Quello che noi andiamo a cercare come vita al di fuori della Terra non è altro che una replica della vita terrestre, perché? Perché è l'unico tipo di vita che conosciamo finora, è l'unico tipo di vita che possiamo provare a identificare in ambienti esterni. Se esistessero esseri di puro pensiero o di pura energia come nei telefilm di Star Trek, noi non saremmo in grado in ogni caso di capire la loro presenza perché non sapremmo in che maniera sostanzialmente osservarli. Ma anche se noi parliamo di una vita di tipo terrestre, quindi di una replica di vita terrestre che abbia caratteristiche simili alla vita terrestre, non è poi neanche così facile dare una definizione univoca di vita di tipo terrestre, perché, questa è una mia opinione personale ma è condivisa insomma da diversi astronomi e poi sentiremo nel corso di questi due giorni la visione invece della parte biologica, dei biologi, il confine tra vita e non vita non è così nettamente marcato, è un confine un po' labile, quindi non è facile identificare ciò che è vita e ciò che non è vita. Giusto per darvi un'idea di questa difficoltà vi faccio vedere una definizione che va molto per la maggiore in astrobiologia. Una serie di caratteristiche comuni che hanno gli organismi viventi. Allora la prima caratteristica comune sarebbe che un organismo vivente cresce e si riproduce. Voi dite, vabbè, logico, beh mica tanto, perché questa vi taglia via i virus, perché i virus non crescono, perché nascono e muoiono esattamente nella stessa maniera, cioè non c'è un processo di crescita e non hanno capacità riproduttive interne, hanno bisogno di un organismo ospite per riprodursi, quindi secondo questa definizione il virus non sarebbe vita, ma consentitemi l'osservazione, è purtroppo estremamente efficace nel determinare ciò che noi definiamo come vita. Un organismo vivente si deve evolvere e adattare al suo ambiente, un organismo vivente ha bisogno di energia per i suoi processi, per vivere sostanzialmente e la cosa che va sottolineata in ambiente astrobiologico ha bisogno di acqua liquida. Il fatto che abbia bisogno di acqua liquida è la pietra miliare che noi cerchiamo negli ambienti esterni nella Terra, noi cerchiamo ambienti dove ci sia stata o ci sia oggigiorno la presenza di acqua liquida. Questo restringe la nostra ricerca nel sistema solare sostanzialmente a Marte e alle lune, le grandi lune dei pianeti giganti. Perché proprio l'acqua liquida? Perché l'acqua liquida per quanto riguarda la vita ha una serie di funzioni fondamentali, ha un solvente, è un regolatore di temperatura e potete immaginare che un organismo vivente può vivere, tranne casi probabilmente di qualche estremofilo, ma diciamo organismi complessi hanno bisogno di una temperatura relativamente stabile per sopravvivere, quindi l'acqua è un ottimo regolatore di temperatura, è un metabolite, quindi è un prodotto del metabolismo intermedio finale, costituisce l'acqua liquida anche un ambiente vivente in cui vivono gli organismi ed è anche un lubrificante. Ad esempio nelle giunture delle vostre e delle mie ossa c'è una grande quantità di acqua che serve per lubrificare la giuntura stessa, quindi la frizione tra le ossa. Ora andiamo a vedere dove si può trovare quest'acqua liquida nel sistema solare. Il primo candidato è sicuramente Marte. Marte è il pianeta del sistema solare che conosciamo di più, al di là della Terra ovviamente, perché è molto vicino, perché è piuttosto facile arrivarci con la nostra tecnologia ed è stato oggetto di un'intensa esplorazione spaziale dagli anni 70 con le prime missioni Viking della NASA. Missioni che qua riporto in questo schema che hanno involucrato missioni dell'ex Unione Sovietica, adesso Russia, Stati Uniti, Agenzia Spaziale Europea, quindi Europa, Giappone e credo che tra poco sarà anche il turno della Cina e dell'India che stanno già iniziando l'esplorazione della Luna per poi proiettarsi verso Marte. Questa esplorazione di Marte ha involucrato una serie di sonde in orbita, ma anche una serie di robottini che di tecnologia sempre più complessa negli anni hanno esplorato il pianeta. Ma perché Marte è così anche importante per quanto riguarda l'astrobiologia? Perché ormai abbiamo delle evidenze nette e inequivocabili che Marte era pieno di acqua liquida sulla sua superficie. Questa è una bellissima immagine di un letto fluviale e vedete diversi affluenti, diversi fiumi, ormai è tutto secco, che confluiscono poi in un fiume principale. Ricorda un po' la pianura padana di ciò che succede con il fiume Po. Se andiamo ancora più vicino, possiamo vedere che alcune rocce, che sono quelle in alto destra, ricordano esattamente le rocce che sono presenti nei letti dei fiumi terrestri. Quindi c'è un'analogia geomorfologica estrema. Ormai tutti credono che ci sia stata una grande quantità di acqua sulla superficie di Marte. Forse addirittura così, che ci sia stato un enorme oceano che abbia coperto tutto l'emisfero nord. A destra, quella di sinistra, ovviamente una rappresentazione artistica, pittorica. Quella di destra invece è una mappa di elevazione superficiale. E quello che vedete è che tutto l'emisfero nord è piuttosto basso rispetto all'emisfero sud ed è anche estremamente liscio. Quindi da proprio l'idea di un letto, diciamo così, di un antico oceano che aveva lisciato sostanzialmente la superficie con l'azione delle acque. Marte aveva quindi acqua sulla superficie, aveva un'atmosfera piuttosto densa. Per quanto tempo è stato così? Probabilmente mezzo miliardo di anni, che credo che sia un tempo sufficiente per permettere lo sviluppo della vita. Che cosa è successo a Marte? Purtroppo la sua grandezza è stato anche il suo fatto, perché Marte è estremamente piccolo, con un campo gravitazionale piuttosto piccolo, non è riuscito a trattenere questa atmosfera densa, si è abbassata la pressione e abbassando la pressione l'acqua non può più stare allo stato liquido, si è sostanzialmente trasformata in ghiaccio. In ghiaccio nelle calotte polari, in ghiaccio sottosuperficiale, nel cosiddetto permafrost, e anche una piccola quantità di vapore acqueo è presente nell'atmosfera marziana. Ma c'è acqua liquida oggigiorno su Marte? Questa è una domanda che ha rovellato il cervello degli scienziati per diversi anni. Probabilmente sì, non sulla superficie, ma sotto la superficie sì. Questa è una scoperta tutta italiana, quindi la racconto anche con un po' di orgoglio nazionale. Nel 2018, utilizzando i dati della Mars Express, una sonda dell'Agenzia Spaziale Europea, si è scoperto che probabilmente sotto la superficie di Marte c'è un vero e proprio, in quel punto che è stato osservato dalla sonda, c'è un vero e proprio lago liquido e salato. Quindi, come diceva il direttore, potrebbe anche darsi che possa essere un ambiente eventualmente ideale alla presenza di vita microbica. Parlando un po' di Marte, terminando il discorso di Marte, vi accenno molto brevemente a quello che è la punta di diamante odierna, che è la missione Perseverance della NASA, che ha scaricato questo enorme robottone sulla superficie, grande sostanzialmente come un SUV e anche un piccolo elicotterino, che è stato fatto terrare in un cratere, non un cratere qualsiasi, in un cratere dove c'era un lago. Quindi sta cercando, anche campionando in maniera piuttosto intensa, possibili forme di vita fossili o possibili evidenze fossili di una vita passata. Giusto per darvi un'idea dell'ambiente che sta campionando, questa è una parte della zona campionata da Perseverance, vedete queste rocce che vengono chiamate Mudstones, cioè rocce che si sono formate sostanzialmente da fanghi in maniera stratificata a causa dell'azione dell'acqua. Quindi qua abbiamo la super evidenza che c'era un ambiente acquoso attivo e quindi Perseverance sta cercando evidenze di una possibile vita passata. Una possibile vita passata che consentitemi di citare il colonnello Chris Hadfield, che è stato uno tra i primi stranieri, è canadese, sempre anglosassone ma non è americano, è stato uno dei primi comandanti non americani della Stazione Spaziale Internazionale, che è famoso anche per aver suonato le canzoni di David Bau in orbita, per questo che c'è la foto con la chitarra, che ha detto una cosa molto interessante. Il giorno in cui si troverà il primo fossile su Marte, lui poeticamente chiamò il primo fiore fossilizzato su Marte, questo sarà un momento estremamente importante per l'umanità, un momento di introspezione e oserei dire un momento che forse porterà l'umanità a capire un po' meglio quanto è importante la vita nell'universo e sul nostro pianeta. Credo che mai come in questo momento abbiamo bisogno come umanità di fare questo salto qualitativo. ma a parte Marte, e qui lascio il testimone al dottor Roccero, ci sono una serie di corpi nel sistema solare che, in cui abbiamo l'evidenza indiretta, è quello che stiamo facendo con le emissioni spaziali, è cercare di arrivare all'evidenza diretta. Esistono dei corpi, che sono le lune principali del sistema solare, le lune più grandi se volete sono le lune dei pianeti giganti, in cui molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, ci sono dei veri e propri oceani sottosuperficiali e la presenza dei vasti oceani sottosuperficiali è un ambiente estremamente favorevole a quello che può essere lo sviluppo di vita molto simile probabilmente a quella terrestre. Le lune principali sono sostanzialmente tre lune di Giove, le tre lune galileiane di Giove, in realtà sono quattro le lune galileiane, ma Io che è la luna più interna è sostanzialmente un mondo vulcanico, Europa, Ganymede e Callisto, poi c'è Titano che è la più grande luna di Saturno, Tritone che è la più grande luna di Nettuno e una piccola, relativamente piccola luna di Saturno che è una luna estremamente ghiacciata che si chiama Encelado. Io con questo passo il testimone al dottor Ruccero. Salve a tutti, sono il dottor Gennaro Ruccero, sono un collaboratore esterno dell'Università Partenope e questa è la seconda parte per quanto riguarda la ricerca delle tracce biologiche tramite appunto le missioni spaziali. Il professor Bertini vi ha già introdotto quelli che vengono definiti Ocean Worlds, cioè tutti i corpi celesti con una quantità già importante di acqua sottostante una crosta ghiacciata. Come vi ha fatto vedere prima il professor Bertini, in genere queste sono lune di altri pianeti e in queste due immagini vediamo una rappresentazione artistica a sinistra di quella che dovrebbe essere la superficie di uno di questi Ocean Worlds, quindi con la sua crosta ghiacciata, mentre a destra vediamo quello che è una modellizzazione ipotetica della luna gioviana Europa che vedremo meglio successivamente. In genere questi Ocean Worlds sono composti da un core che può essere metallico, quindi fatto di metalli pesanti, nel caso di Europa ferro nickel, contornato poi da un mantello roccioso che va a contatto poi con quello che dovrebbe essere l'oceano subsuperficiale, mentre in superficie abbiamo quella che è appunto la crosta ghiacciata. Andando sul particolare vediamo qua nelle immagini a destra tutte quelle che sono gli Ocean Worlds nel nostro sistema solare, come ha accennato prima il professor Bertini. Ritroviamo le quattro lune di Giove, le quattro lune galileane di Giove che sono gli Europa, Paganimede e Callisto, le due lune Saturniane, Encelado e Titano e una luna nettoniana a Tritone. Riguardo questi Ocean Worlds è molto interessante andare alla ricerca di quelle che vengono definite le biosignature, cioè tracce prebiotiche di varia natura, possono essere isotopi, molecole, alcuni composti organici che possono poi ricondurre alla presenza di vita in passato o in quel momento. questo tipo di ricerca ci permetterebbe poi di andare a definire quella che viene detta l'abitabilità di questi corpi celesti, cioè la capacità proprio di far sviluppare la vita e di far riprodurre e crescere vari vari tipi di organismi. Tramite appunto missioni strumentali e vari tipi di modellizzazione, si pensa che su questi pianeti siano presenti delle strutture che ritroviamo anche sul nostro pianeta, che sono gli hydrothermal vents. In particolare, facendo riferimento proprio alla Terra, ritroviamo due tipi principali di hydrothermal vents, che sono i white smoker e i black smoker. Per quanto riguarda, a prescindere ovviamente dal colore del fumo che esce, i white smoker si formano su un tipo di crosta oceanica antica, sono più freddi rispetto ai loro fratelli black smoker e a livello di comunità, quindi di diversità e di biomassa, ne hanno relativamente poche, essendo anche più basici rispetto ai black smoker. I black smoker invece si formano sulle dorsali oceaniche, quindi fondamentalmente sono più giovani rispetto ai white smoker, le temperature sono molto più alte e comunità e biomassa sono molto più presenti e molto più diversificate. Il gradiente di temperatura, infatti, va a definire quella che viene detta zona azione, zona azione sulla base della temperatura, cioè avvicinandoci o allontanandoci dall'hydrotermal vents, quindi dalla struttura in sé per sé, ritroviamo vari tipi di organismi e di comunità. Nella parte più vicina dell'hydrotermal vents stesso ritroviamo quelli che sono i siboglinidi, cioè dei vermi a tubo giganti che vivono peculiarmente proprio in questo tipo di ambienti, specializzati a vivere in questi ambienti. Vivono tramite un'endobiosi forzata, quindi in simbiosi con dei batteri molto particolari che permettono di recuperare tutta la materia chimica che fuoriesce dall'hydrotermal vents e riciclarla per renderla nutrimento proprio per i siboglinidi che gli danno protezione. Vicino al vent appunto si parla di una temperatura intorno ai 400 gradi, quindi comunque sono molto specializzati nel vivere in questo ambiente. Allontanandoci già di qualche metro la temperatura inizia a scendere drasticamente, parliamo intorno ai 60 gradi e ritroviamo quelli che sono comunità a bivalvi, infatti vediamo che c'è la presenza anche di bivalvi giganti come vediamo nella foto a destra, e sempre spostandoci di qualche metro ancora dall'hydrotermal vents la temperatura ambientale scende verso i 4-2 gradi, che è la temperatura standard poi delle profondità dell'oceano e possiamo ritrovare altri tipi di organismi sempre specializzati nel vivere in questo tipo di ambienti cosiddetti effimeri. In particolare nella foto ho voluto evidenziare un cosiddetto granchioieti, ma possiamo trovare anche ad esempio pesci topo o vari tipi di polpi. Per studiare ovviamente quelli che sono gli ocean worlds è necessaria una strumentazione molto particolare e molto precisa. In questa foto ho voluto rappresentare quella che è la sonda JUIS, cioè la sonda che è stata utilizzata per la missione dell'esplorazione delle lune ghiacciate di Giove. Tra le varie strumentazioni che ritroviamo su questo tipo di sonde, alcune delle più importanti sono il magnetometro JMAG, che serve fondamentalmente per andare a vedere quello che è il campo magnetico che la Luna sviluppa, il radar RIME, che ha il compito di penetrare, ovviamente tramite misura indiretta, la crosta ghiacciata della Luna, che fondamentalmente è simile al radar utilizzato nella missione Marsis. Nel Marsis il radar riusciva a penetrare fino a circa 5 km, il RIME arriverà a penetrare fino a circa 9, per andare proprio a vedere se è presente un oceano subsuperficiale, mentre la radio 3GM viene utilizzata per confrontare con dati di laboratorio il campo gravitazionale sia della Luna stessa, sia l'influenza del campo gravitazionale del pianeta di riferimento della Luna. Ho voluto evidenziare anche il telescopio Janus, questo perché, momento sponsor, diciamo, è stato sviluppato proprio all'interno del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università Partenope, grazie al professor Pasquale Palumbo. Infatti si vede nella foto a sinistra proprio lui vicino al telescopio, mentre nella foto a destra è proprio il telescopio che è stato montato e verrà montato poi successivamente sulla sonda JUIS. Questo è comunque un traguardo molto importante per tutto il gruppo di ricerca della Partenope. Andando poi a vedere quella che è la prima delle due lune prese in esame quest'oggi, cioè la luna di Saturno, cioè Encelado, qui vediamo una rappresentazione di quella che potrebbe essere la sua conformazione e composizione. Abbiamo all'interno quello che è un mantello roccioso, che andrebbe a contatto poi con quello che è l'oceano subsuperficiale, parliamo circa di una sessantina di chilometri di profondità più o meno, mentre la crosta ghiacciata superficiale si agirebbe intorno ai 5 chilometri. Quello che si pensa succeda fondamentalmente su Encelado è che l'oceano subsuperficiale penetrerebbe tramite porosità all'interno del manto roccioso, fuoriuscendo proprio come degli Adetelmal Vent, come li abbiamo visti in precedenza, quindi come li abbiamo sulla Terra, in particolare potrebbero essere white smoker. Encelado presenta inoltre peculiarità molto specifiche. La prima su tutte la ritroviamo a livello superficiale, con quelle che vengono definite tiger stripes, cioè delle sorte dei solchi sulla superficie ghiacciata che vengono date fondamentalmente da quella che è la forza gravitazionale di Saturno esercitata sulla Luna stessa, definita come forza mareale. La seconda caratteristica peculiare di Encelado risiede nel suo polo sud, questo perché nel polo sud tramite la missione Cassini, e quindi la sonda Cassini, è stata vista una presenza massiccia di quelli che vengono definiti plume, cioè delle fuoriuscite, degli sbuffi che fuoriescono proprio dalla crosta ghiacciata, che potrebbero essere ricchi di biosignature. E la sonda Cassini è passata proprio vicino il polo sud di Encelado, andando a campionare proprio i suoi plume. E qui vediamo quella che è una foto fatta proprio dalla sonda Cassini, dove si può vedere meglio la struttura dei plume superficiali. Quello che potrebbe succedere su Encelado è un fenomeno molto particolare e relativamente strano, diciamo così, che viene definito criovulcanismo. Il vulcanismo noi lo conosciamo sul nostro pianeta proprio come l'eruzione del vulcano con la fuoriuscita di lava, che è fondamentalmente caldo. Su Encelado non si avrebbe l'eruzione di lava, ma l'eruzione di acqua o composti del metano. Questo è molto interessante perché comunque non abbiamo un modello con cui riscontrare questo fenomeno sul nostro pianeta, ma sarebbe un fenomeno del tutto nuovo. Questo insieme di sostanze vengono definite come criomagma e vengono appunto date dalla forza di gravità di Saturno che viene esercitata su Encelado, che fa risalire l'acqua pressurizzata, che poi esce appunto tramite come plume dalla superficie ghiacciata, come abbiamo visto precedentemente, e va a condensare proprio a causa delle basse temperature a cui si è esposti su queste lune ghiacciate. In genere si parla di circa meno 200 gradi Celsius. E qui vediamo proprio, grazie alla missione Cassini, quella che è la composizione dei plume di Encelado, vediamo come la maggior parte sia fondamentalmente acqua, ma ritroviamo anche altri composti come idrogeno molecolare, metano e CO2. La seconda luna invece che vorrei farvi vedere è la luna di Giove, cioè Europa. Qui vediamo delle similitudini, ma anche delle differenze con la luna saturniana vista in precedenza. Prima su tutte la differenza sta nel core, perché come abbiamo detto prima, qui ritroviamo un core fondamentalmente fatto di metalli pesanti, ferro o ferronichel, e sempre tramite strumentazioni si pensa che, a parte il mantello roccioso che delimita il core, ci sia un oceano subsuperficiale di una profondità che si aggira intorno ai 100 km, con la crosta ghiacciata superficiale che si aggira intorno ai 10, quindi più o meno il doppio rispetto a quelli visti precedentemente. Anche qua si pensa siano presenti degli Adelmal Vents che tramite la forza gravitazionale di Giove che viene esercitata sulla luna vadano a formare quelli che sono i plume che abbiamo visto precedentemente. Una struttura che si pensa sia proprio caratteristica di Europa sono sia le linee che sono fondamentalmente simili a quelle che sono le Tiger Strike su Encelado, quindi dei solchi sulla crosta ghiacciata dati proprio dalla forza mareale e dal movimento delle placche tettoniche all'interno della luna stessa, ma anche quelli che sono i laghi che si formano all'interno della crosta ghiacciata. A causa proprio degli Adelmal Vents che sparano questi getti pressurizzati di acqua, potrebbero formarsi delle micro fratture nel ghiaccio dove si va ad inserire proprio una piccola quantità di acqua che andrebbe a formare questi micro laghi all'interno dello strato ghiacciato, che sarebbero molto interessanti da studiare perché poi potrebbero formare vita in un ambiente molto molto particolare, molto molto estremo, diciamo così. e nella foto qui a destra vediamo quella che è una rappresentazione tramite appunto una foto tramite la missione Juiz di quello che è Europa nella realtà, quindi vediamo molto meglio quelle che sono appunto le linee, questi solchi superficiali che caratterizzano la superficie di Europa. Tutto questo discorso ovviamente come vi ha spiegato prima anche il professor Bertini è riconducibile anche a Marte, infatti sono state ritrovate tracce di acqua sotto la superficie marziana per cui si pensa che fosse presente la vita in tempi passati su Marte o addirittura fosse simile alla Terra come la vediamo oggi. Nella foto qui a destra infatti vediamo una rappresentazione artistica fatta proprio dalla NASA, calcolata in miliardi di anni fa, in cui vediamo proprio che Marte aveva un oceano superficiale che è a causa poi di vari fattori geofisici che è andato via via essiccandosi, rilasciando Marte poi come lo vediamo oggi. Infatti varie missioni come ad esempio Marsis hanno evidenziato la presenza di acqua subsuperficiale, quindi sotto la crosta di Marte e sono state anche rilevate alcune biosignature come anidide carbonica o idrogeno molecolare che potrebbero ricondurre alla presenza di una possibile vita in tempi passati. Ma ovviamente sono necessarie ulteriori missioni per capire proprio questo tipo di studi. In conclusione si può dire che la composizione degli Ocean Worlds potrebbe permettere in determinate condizioni la vita nello stato oceanico subsuperficiale di questi pianeti ghiacciati o di queste lune ghiacciate. L'interazione inoltre che lo strato oceanico e lo strato ghiacciato e il manto roccioso hanno tra di loro è molto importante per andare a definire l'abitabilità di questi corpi celesti, così come anche la loro rotazione o l'influenza del pianeta di riferimento, quindi della forza gravitazionale che ad esempio Giove e Saturno vanno ad esercitare su queste lune. Inoltre, se è vero che ci sono degli adotermal vents su questi corpi celesti, sarebbero degli importanti punti di partenza per andare a cercare la vita su questi corpi celesti. Infatti, alcune delle teorie della formazione di vita sul nostro pianeta riconducono proprio alla prima comparsa di vita vicino a questi cammini idrotermali, a causa proprio della forte energia rilasciata dai venti stessi e dalle molecole prebiotiche, anche se si è in assenza di luce solare, avrebbero permesso lo sviluppo della vita stessa. Ed è importante poi andare a ricercare quelle che sono le biosignature su questo tipo di pianeti o di satelliti che potrebbero andare a definire meglio l'abitabilità di quest'ultimi. Ma ovviamente sono necessarie future esplorazioni planetarie e campionamenti mirati per andare proprio a capire questo tipo di aspetti. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.